se hai ricevuto problemi riguardo ai caricamenti su Fortnite che quanto sta caricando così il gioco crasha Fortnite quindi in questo caso per farti vedere sta facendo così connessione in corso e dopo un po' esce così un lungo caricamento come questo qua e poi mi crasha il gioco ed eccolo qua crasha Fortnite con connessione in corso e poi mi riporta sull'Epic Games nello store quindi in questo caso per risolvere il problema è cancellare tantissimi file temporanei pulire un po' il disco e rimuovere anche la cartella Fortnite Games in AppData quindi in questo caso possiamo anche chiudere Epic Games perché non ci serve andiamo direttamente sulle cartelle dove tengono moltissime cache quindi andiamo così su Start e scriviamo Eseguo vai a scrivere %AppData% e fai OK una volta fatto vedi se in una di queste tre cartelle local, local low o roaming c'è la cartella di Fortnite vai su local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite Game eccola qua e cancelliamola una volta fatto assicurati anche di cancellare le altre cartelle in local low sempre se c'è questa cartella qua qui non c'è e proviamo i roaming e qui non c'è una volta fatto elimina anche la cartella Epic Games online ovviamente dovrai rifare l'accesso con il tuo account qualsiasi chi hai collegato a Epic Games fai il login e accedi direttamente alla tua libreria e al tuo store di Epic Games quindi andiamo un attimo sull'Epic Games se lo troviamo eccolo qua Epic Games Launcher e basta una volta fatto svuota anche il cestino e fai sì ora andiamo direttamente a scrivere qua sopra disk che uscirà pulizia disco andiamo così a pulire il nostro disco eccolo qua puoi fare direttamente pulizia file di sistema rimuovendo veramente tantissime cose anche quelle più avanzate cose proprio inutili download che adesso non servono più perché adesso sono installati sul tuo computer quindi puoi fare questa procedura sia su cd e quindi facciamo su cd e facciamo ok ed eccoci qua ha fatto un'analisi e queste sono le cose che devo cancellare ovviamente sono piccole cose ma se tu ti ritrovi con tipo 10 giga di roba qua cancella tutto ora faccio di nuovo su disk dove tengo direttamente il gioco quindi faccio sul volume E e faccio ok ovviamente non ho nulla dove tengo il gioco e faccio ok una volta fatto andiamo un attimo sui servizi scendi fino a giù fino a trovare così il servizio di Epic Online Service questo qua tipo di avvio metti automatico dato di servizio metti avvio e in esecuzione e fai applica e fai ok ora vai su Epic Games qua sopra tasto destro sopra dobbiamo andare nella proprietà di Epic Games quindi apri percorso file apri percorso file ed eccolo qua Epic Games Launcher punto exe mostra altre opzioni proprietà compatibilità metti dal spunto su disabilità ottimizzazione schermo intero esegui questo programma sempre come amministratore esegui in programma in modalità compatibilità per Windows 7 io ho messo questo e non ho problemi modifiche impostazioni dp elevati dp programma sistema avanzato e fai ok e fai applica una volta fatto avvia Epic Games come amministratore e ora fai l'accesso al tuo account dovessi bastare vai qua sopra scrivi esegui e qua vai a scrivere % temp % e qua puoi rimuovere tutti i file temporanei che non ti servono quindi fai CTRL A CTRL più A sulla tastiera e cancelli tutto e svuoti il gestito se non dovesse bastare ancora andiamo su gioco a cui gioco che sarebbe la mia cartella la mia libreria i puntini gestisci e fai la verifica a fortnite se no vai direttamente sui tre puntini opzioni ed eccolo qua scelte la direct x12 togli la spunta da qua che non ti serve prescarica le risorse trasmesse metti la spunta qua sopra e fai apri una volta fatto vai sui tre puntini e vai su gestici opzioni di lancio andiamo a scrivere tratti 3d 11 così facendo lo andiamo ad avviare come direct x11 come modalità di rendering e chiudiamo qua e ora non ci resta che avviare il gioco a connessione in colso ricerca degli aggiornamenti si è caricato senza nessun problema quindi questi metodi hanno funzionato su fortnite se non dovesse bastare poi semplicemente andare nella sua cartella basta che vai sempre sui tre puntini vai sui tre puntini vai su gestisci poi vai direttamente nella cartella di fortnite per esempio chiudo un attimo fortnite come dicevo tre puntini gestisci installazione la sua cartella fortnite game binaris 64 scendi fine giù fino a trovare le quattro ora sono tre applicazioni prima erano quattro ora che fai cancella queste tre applicazioni chiudi la cartella e fai la verifica ripristinerà così quei tre programmi che hai cancellato aggiungendone dei nuovi sempre gli stessi ma nuovi e basta è fatto tra altri problemi ancora puoi commentare sotto al video sono altre guida riguardo su fortnite questo è stato il centesimo tutorial fortnite quindi tutto nella playlist grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao